Ricordo ed emozione in una serata speciale dedicata all'indimenticabile Zeno Colò. In occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa, la Betone ha voluto rendere omaggio alla figura del Falco di Oslo. Martedì 7 agosto, dalle 21 in poi, all'arbergo Primula, si parlerà di Zeno soprattutto da un punto di vista umano, grazie a chi lo ha conosciuto e a chi ne ha condiviso insieme alcune esperienze di vita. Salute permettendo, con i suoi 97 anni sarà presente Celina Seghi, un bronzo mondiale e ben 37 medaglie, 25 d'oro e campionati italiani, record tuttora imbattuto. Ci saranno anche Michele Stefani, 70 anni, tre volte sul podio di Coppa del Mondo, olimpionico in Francia e Giappone, e Alessandro Casse, che di anni ne ha 67, ex primatista mondiale del chilometro lanciato. Ovviamente ci saranno anche filmati dedicati al Colò Atleta, uno dei più forti sciatori italiani di tutti i tempi, con un oro olimpico, tre ori e un argento mondiali. Il 7 di agosto, presso l'albergo Primula, si ricorderà Zeno. Zeno non tanto come atleta, eccellente, conosciuto in tutto il mondo, ma come uomo, perché secondo noi è stato eccellente anche da un punto di vista umano e quindi avremo occasione di parlare con tantissima gente che con lui ha condiviso esperienze particolari per conoscere Zeno, uomo. Si parlerà, ma ci saranno anche dei filmati storici, curiosi da vedere. Sì, ci sarà un filmato che ho recuperato presso Rai Teca a Roma, di Zeno che insegna i primi rudimenti dello sci, e poi altri filmati molto interessanti, però non posso raccontarvi tutto ora, altrimenti tolgo la curiosità. La serata è quella del 7 agosto, dalle 21 in poi, è aperta a tutti? È aperta sicuramente a tutti, a tutti quelli che hanno conosciuto Zeno o che ne hanno sentito parlare.